Vi rubo solo un pochettino di tempo, cerco di essere breve. Per chi non mi conosce, io sono Alessandra Compagnucci, sono una socia della Sigess SRL, azienda che nasce ad Ancona 15 anni fa, fondata da professionisti con una lunga esperienza nel settore dell'igiene, delle pulizie professionali e delle forniture a degliere. Siamo ad Ancona, alla Baraccola, e lì abbiamo i nostri uffici, showroom e magazzini. Quello su cui oggi vorrei concentrare un po' la vostra attenzione sono i punti di forza della nostra azienda che ci possono permettere di essere utili alle vostre strutture. Come possiamo fare questo? Allora, innanzitutto la partnership con i nostri fornitori ci permette di essere un'azienda solida, dinamica e molto flessibile. Da sempre chi è cliente ci riconosce la capacità di trovare le giuste soluzioni e le giuste metodologie in base alla struttura che voi avete. Per fare questo, ad esempio, la collaborazione con la Interchem, che è l'azienda che produce prodotti chimici totalmente in Italia. Noi sappiamo quanto oggi è fondamentale avere una camera, un appartamento, una suite ad hoc. Sappiamo da dati sensibili e da statistiche che 8 utenti su 10 ricercano igiene e pulizia nell'albergo ancora prima della posizione, ancora prima della disponibilità del wifi o di come si mangia al buffet o nel ristorante. In questo noi cerchiamo di offrirvi il meglio, quindi cerchiamo di darvi tantissime soluzioni. Abbiamo prodotti che seguono linee totalmente biodegradabili ed ecosostenibili, abbiamo prodotti concentrati, abbiamo modular dosing, quindi magari dosatori che vengono applicati a muro o direttamente alla rete idrica. Questo perché? Per cercare di darvi un costo a camera preciso, sapere realmente quanto voi andate a spendere per pulire quella camera, a prescinde che voi siate una fitta camera e un B&B con 6 stanze piuttosto che un hotel lusso o con spa, piscina. Ovviamente tutto questo cerchiamo di farlo con una formazione, una consulenza a 360 gradi che noi ci teniamo a dire offriamo gratuitamente per i nostri clienti perché per noi questa è l'idea di crescere insieme. La Intercam come anche la GFL che è l'altra azienda con cui noi collaboriamo, che sono produttori, questo ci tengo a dirlo, per l'Italia ma anche a livello europeo è uno dei pochi che attualmente produce tutto in Italia, sia il cosmetico all'interno che per quanto riguarda il packaging. Queste aziende ci mettono a disposizione i loro manager, i loro direttori commerciali per avere un supporto in tutto e per tutto, quindi nella scelta della linea, nella scelta di un'eventuale personalizzazione, nel valutare su utilizzare dei dispenser e delle staffe a muro. Tutte queste aziende sono certificate, sono all'avanguardia per quello che riguardano normative europee, per tutto quello che riguarda il riciclo della plastica, per tutto quello che riguarda essere amici per l'ambiente, cercare di utilizzare oltre che meno plastica possibile ma quella più ben utilizzata, magari plastica riciclata, quindi i dispenser piuttosto che le tanniche hanno questa particolare attenzione, la Intercam quest'anno ha ricevuto il premio Conai per la sostenibilità dell'imballaggio, quindi comunque cerchiamo di crescere tutti insieme, di dare più valore possibile ai nostri clienti, quindi come noi cresciamo? Cresciamo con i nostri fornitori, cresciamo con i nostri clienti, puntiamo all'eccellenza in tutto questo settore perché crediamo che sia indispensabile per ogni struttura avere il meglio e noi cerchiamo di darlo. Hai toccato degli argomenti importanti, quindi anche le recensioni sulla pulizia, poi anche il discorso plastic free piuttosto che ecologico, quindi anche un altro elemento importante che anche per posizionarsi rispetto a quello che si è detto prima è importantissimo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, noi abbiamo messo nella cartellina le aziende che sono state qui con noi che quindi hanno preparato anche un regalo per la giornata, che quindi trovate poi al desk. Voi avete preparato qualcosa? Sì, 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 allora noi innanzitutto nella Welcome Bag trovate un omaggio, quindi un omaggio, uno sconto su una prima fornitura e se siete interessati e ci venite a trovare al desk abbiamo dei campioni da darvi omaggio sia per quanto riguardano dei prodotti da utilizzare, provare alcuni prodotti per le pulizie e alcune cosettine che riguardano la linea cortesia, quindi vi aspettiamo e ci vediamo dopo. Buon proseguimento!